Il giorno stavo portando mia sorella con mio padre a scuola, passiamo davanti al campo papà ma se ti chiedessi di fare un provino per giocare a calcio? Ogni persona è diversa e a me piacevano i palloni. I miei genitori disperati perché spaccavo tutto in casa mi hanno iscritto alla scuola a calcio. Nel calcio femminile non vedi la velocità di gioco che c'è nel calcio maschile però a livello tecnico vedi magari un'azione un pochino più costruita. Noi donne abbiamo secondo me anche a livello caratteriale un qualcosa in più che ci porta ad essere magari un po' meno aggressive in campo. Il gioco del calcio è il gioco del calcio sia per noi ragazzi che per i ragazzi. Il nostro calcio femminile è un po' più il calcio di una volta e per questo tante persone anche sono innamorate. Team System Grazie a tutti.